E' da più di un'ora che aspetto, ma Elmo non è ancora arrivato. Mi ha dato buca. L'espressione che impariamo oggi è dare buca a qualcuno. Dare buca a qualcuno significa non presentarsi a un appuntamento. Per esempio, oggi io avevo fissato un appuntamento con Elmo, ma Elmo non si è presentato. Mi ha dato buca. Il signor Rossi mi sta dicendo che Elmo gli ha dato buca diverse volte. Quindi sembra che Elmo abbia l'abitudine di dare buca alle persone, di non presentarsi agli appuntamenti. La prossima volta che fissi un appuntamento con una persona, ma quella persona non si presenta all'appuntamento, puoi dire che quella persona ti ha dato buca. Aspetta, ma quello è Elmo. Sta arrivando. Allora non mi ha dato buca. Però è in enorme ritardo.